In questo nuovo video cari amici parliamo di calcio, sappiamo tutti che questa sera alle ore 20.45 presso Arena One Cruyff ci sarà la partita tra Olanda e Italia valida per la seconda giornata del raggruppamento di Nation the League degli Azzurri. Le probabili formazioni a partire da padroni di casa sono queste. Celesen, Danfres, Vanjic, Valtamaghe, Deron, De Jong, Wijnaldum, Bergwijn, Depay, Promises. Per quanto riguarda l'Italia invece abbiamo Donnarumma in posta, D'Ambrosio, Buonucci, Ghellini, Spinazzola, Barella, Jorghigno, Locatelli, Zagnoli, Immobile, Kane, ricordando che alla prima giornata i nostri cari azzurri hanno pareggiato, seppur rimontando un gol alla Bosnia-Herzegovina a Franchi di Firenze, mentre l'Olanda riduce già dalla prima giornata che era casalinga contro la Polonia vingitrice per 1 a 0. Quindi speriamo in bene, anche perché certo vingere in Olanda non è mai facile che sia partita di nazionale, partita di club, noi ci auguriamo il meglio, per il resto mi raccomando i canali sapete YouTube, Facebook, mi trovate lì, vi ringrazio voi tutti, buon proseguimento di giornata di settimana, sempre viva il calcio e forza Italia, ciao a tutti, alla prossima, ciao amico, ciao!